Benvenuti a MissionMobileOS.it quest'oggi stiamo andando a fare l'unboxing l'anteprima, diciamo, vedere un po' il Wiko Bloom un dispositivo interessante, Android, Dual SIM e dal prezzo contenuto quindi andiamo ad aprire la confezione vediamo un po' cosa è compreso all'interno di questo Wiko Bloom abbiamo il dispositivo, poi lo vediamo, in colorazione bianca c'è anche la nera, anche la viola, insomma, diversi colori abbiamo la batteria da montare sul dispositivo 2000 mAh, come possiamo vedere poi è presente il classico cavo USB, micro USB poi, anche in questo caso, direi, classiche cuffie auricolari non in ear, sembrano di discreta fattura con il tastino qui di risposta e microfono poi caricatore compatto di Wiko con, se possiamo vedere qui, spero di riuscire a farvelo vedere abbiamo in output 0.7 Ampere e qui l'ingresso del cavo poi, Wiko ci dota il dispositivo di due, di un po' di adattatori li vediamo subito li possiamo vedere anche da qui ecco qua, ne abbiamo tre allora ne abbiamo, vedete, quello da nano SIM a scheda standard anzi, li faccio vedere da fuori così siamo più precisi abbiamo da micro SIM a SIM standard da nano SIM a SIM standard e da nano SIM a micro SIM quindi tre adattatori si crea e ne fanno comodo come adattatori poi capiremo il perché e poi la classica guida rapida di Wiko con tutte le informazioni su come utilizzare il dispositivo andiamo a prendere allora lo smartphone eccolo qua, dispositivo sicuramente compatto bella questa colorazione bianca e andiamo a parlare un po' del dispositivo ecco, allora innanzitutto diamo le dimensioni abbiamo 138,5 x 71,5 x 9,35 mm di spessore per un peso totale di 140 grammi il display non è molto ampio ma comunque è da 4.7 pollici direi un polliciaggio una dimensione di display che ci permette di impugnare bene il telefono e di essere usato quasi con una sola mano ma anzi direi che ci riusciamo tranquillamente a usarlo con una sola mano 800 x 400 x 480 pixel la risoluzione del prodotto 199 ppi ok, non sono tantissimi non arriviamo nemmeno a 200 e poi vedremo in effetti come si comporta questo prodotto TFT IPS come tecnologia all'interno il processore MediaTek MT6582 è uno dei più, come dire, uno dei più collaudati uno dei più usati come processore di fascia media per i dual sim quad core da 1.3 gigahertz la Mali 400 MP2 all'interno come scheda grafica RAM 1 giga memoria invece interna da 4 gigabyte più espansione tramite la micro SD all'interno poi abbiamo Android Android in versione 4.4 critical quindi praticamente l'ultima versione disponibile prima di Lollipop e collettività Wi-Fi Bluetooth USB, micro USB GPS e naturalmente anche HSPA Plus 3G naturalmente manca la LTE a questo prezzo in quanto il Wiko viene venduto a 129 euro non è possibile comprendere anche la LTE download però comunque a 21 megabit per secondo e upload a 5.76 poi accelerometro sensore di prossimità bussola insomma c'è un po' di tutto e come vi ho detto batteria da 2000 mAh per quanto riguarda invece le camere anzi le fotocamere abbiamo la anteriore a 2 megapixel presente poi sempre sulla parte anteriore oltre naturalmente allo schermo la fotocamera a 2 megapixel il logo Wiko i vari sensori che vi ho detto è il padiglione auricolare sotto tasto indietro tasto di home tasto opzione di strumenti sopra ingresso del cavo micro USB a sinistra invece il jack da 3.5 a destra si confondono ma ci sono il bilanciere volume il tasto di accensione e spegnimento sotto invece semplicemente il microfono a sinistra ancora meno non c'è praticamente nulla il telefono è liscio dietro abbiamo qui sotto con un piccolo piedino di rialzo spero di riuscire a farlo vedere eccolo qui lo speaker logo Wiko in rilievo in metallo e fotocamera posteriore con flash LED fotocamera posteriore da 5 megapixel video registrati in full HD 30 frame per secondo il telefono si apre vedete qui c'è l'incavo e ora scopriremo anche il discorso riguardante le sim allora innanzitutto possiamo vedere come il dispositivo permette di inserire qui la micro SD in questo spazio poi la sim 1 che come vedete la sim 1 è una sim in formato standard e poi la sim 2 che invece è in formato micro ecco perché quindi tutti quegli adattatori all'interno del dispositivo bene allora direi che abbiamo sviscerato abbastanza bene l'anteprima di questo di questo Wiko Bloom direi allora che è un po' tutto per questa unboxing datemi qualche giorno di tempo per testare un pochino il dispositivo e ci rivediamo tra una settimana scarsa per la recensione finale di questo interessante prodotto dell'azienda francese un saluto quindi cari amici di mobileovest.it ciao